La nostra idea è quella di voler recuperare questa struttura mantenendo il suo carattere di struttura indefinita e di utilizzarla in base in parte per attività artistiche e recreative attraverso la partecipazione del comune e tramite un passo per l'investimento da parte di privati. Il nostro obiettivo concettuale prende il nome di invadiamo, ovvero diamo un invaso. Questo nome viene fuori dalla definizione di opera architettonica, un involupo, ovvero una struttura che contiene un invaso, ovvero una funzione. Nel nostro caso abbiamo una struttura non ben definita e per giunta neanche terminata, ma non abbiamo mai avuto all'interno di questa una vera e propria funzione, ovvero la funzione per cui è nata, ma una serie di funzioni libere che gli utenti che soffriscono dell'ecomostro danno in base alle proprie esigenze, alle proprie esigenze e alle proprie esigenze. Nel nostro caso quindi vogliamo utilizzare l'ala sud-ovest dell'ecomostro, soprattutto il primo piano e il primo piano del corpo centrale che presenta soltanto la struttura. Non darvi una funzione definita, ma una funzione temporanea, variabile, che prevede attività culturali e artistiche di ogni genere, dando la possibilità quindi ad identità culturali conosciute e non, del luogo e non, giovani e meno giovani, di poter soffrire di questo spazio. Il nostro percorso progettuale prevede un bando da parte del comune, un bando non generico ma anche dalle linee guida che segnano quelli che sono gli stili e gli interventi da effettuare all'interno dell'opera. Prima tra tutte è la messa in sicurezza minima. Il bando è destinato a privati e successivamente anche la gestione in seguito alla messa in sicurezza minima è assegnata ai privati. Il comune collaborerà con i privati per quanto riguarda la messa in sicurezza dei percorsi per raggiungere l'ecomostro e degli spazi antistanti all'ecomostro destinati a partizio.